Sì, però, Max, bisogna dire che la sigla, quella che parlano domani sera, la sigla di tutte le puntate, è stata scritta da Stefano Palatresi, interpretata magistralmente da Max Tortola, che domani sera ballerà e canterà. Ballata magistralmente, la Federica Baligucci. Io non ballo. Max, porto neanche. E quando mi diva che io non beccavo il play, perché se metteva l'idea si distraiva e si girava. Comunque, no, la sigla è molto molto carina ed è cantata da Max molto bene, quindi non è vero che non fai niente, ma insomma c'è anche questa tua versione canterica lì sul palco. Guarda, per quanto riguarda la collezione, vado appresso a lei, come si dice a Roma, perché lei, su questo lato non io puoi insegnare niente di suo, io vado appresso a lei, sulle cose mie, le limitazioni sono abbastanza autonome, me le gestisco addirittura in anticipo. Di nuovo in questo momento professionalmente ho fatto un disco, perché tanto come non fa ne manca niente, ma sempre questo ho fatto pure una videocassetta con un libricino attaccato che si chiama, come si chiama, Cusanetti, no? Che non ho mai saputo se ha venduto una copia, due, venticinque, nessuno mi ha fatto mai sapere niente.